Ciao tifosi del Milan! Siamo qui per portarvi una notizia esclusiva che vi farà battere il cuore. Il nostro amato Milan è sempre alla ricerca di miglioramenti per raggiungere grandi risultati, e le notizie sul mercato sono davvero entusiasmanti. Prima di tuffarci in questa notizia scottante, non dimenticate di lasciare quel like per dimostrare il vostro amore per il nostro club e, se non siete già iscritti, non perdete l'occasione di entrare a far parte della nostra community premendo il pulsante di iscrizione e, attivando la campanella per non perdervi nessun dettaglio. Questa ricerca ci porta a una situazione intrigante. Con l'arrivo di Yunus Musa dal Valencia, la nostra attenzione si è concentrata inizialmente su attacco e difesa. Tuttavia, la possibile partenza di Rade Krunic sta cambiando il quadro. Krunic è destinato a raggiungere il Fenerbahce, visto che c'è un accordo di massima sulle condizioni personali. È stato un elemento fondamentale nei piani del nostro allenatore Stefano Pioli. Quindi un sostituto affidabile diventa più che necessario per mantenere la coerenza. Ed è qui che entrano in gioco due nomi di spicco, Nicolas Dominguez del Bologna e Yusuf Fofana del Monaco. Entrambi sono potenziali obiettivi per riempire il vuoto che Krunic lascerebbe. Fofana, che attualmente gioca nel Monaco, ha attirato l'attenzione della nostra squadra. Il suo futuro è ancora incerto, con un contratto fino al 2024 e un'opzione di prolungamento fino al 2025 a discrezione del Monaco. Potrebbe partire entro la fine dell'estate, visto che la squadra non sarà in Europa. Il Monaco ha investito 15 milioni di euro per Fofana e ora ritiene che il suo valore sia salito a più di 20 milioni di euro. Il giocatore ha suscitato l'interesse di West Ham, Newcastle United e persino del Paris Saint-Germain. Ora la palla passa a voi, tifosi. Cosa ne pensate della possibilità che Krunic parta? E tra Dominguez e Fofana, chi preferireste come possibile aggiunta al nostro centrocampo? Lasciate le vostre opinioni e idee nei commenti qui sotto. Ricordatevi di mettere un like se la notizia vi ha entusiasmato e di abbonarvi per non perdervi nessun dettaglio di ciò che accade nel nostro Milan. Al prossimo aggiornamento e, come sempre, Forza Milan! Grazie a tutti!